E ciao belli, siamo qui finalmente, tornati sul canale, oggi farò lo so, è poco, lo so, però fa niente dai, per me è tanto, perché sembra strano ma lo speciale è un iscritto, un iscritto, questo è il vero Dromelife, non è il solito figlietti, ha parole mie, allora, nasco in famiglia come tutte, in un paesino, in un paesino qui in Italia, a segrete, Poi la mia famiglia, un'autonata, ha deciso di trasferirsi a Milano, perché gli sembrava una bella città, infatti ho conosciuto tante persone, fino alla prima ho avuto dei compagni in classe davvero bravi, delle insegnanti fantastiche, E tutto andava bene, ma il 27 marzo, mentre io andavo al secondo e al terzo, nasce mio fratello, Tommaso, Io ero contenta, io ero contenta, io ero un fratellino ma crescendo, e sono reso conto che ci rimetto io, quando lui piange, mia mamma si incacchia, ci rimetto io, Scusate, non sono senso, e quindi ora mi rompo il pane, ma non solo per questo, perché mi rompe in generale, e se ora tipo questo video lo sto vedendo Cristian, ha le carrieri, che sono dei miei amici, Qua ho la staffa, o Lorenzo, spero che vi piaccia, o come ho detto a scuola, la grafica fa un po' schifo, però niente, iscrivete, ah, iscrivete al canale di un mio amico, che si chiama Omar Gabriele, e dell'altro, che non mi ricordo di nome, ma Marina qualcosa, e se sto sentendo questo video, Cristian, soprattutto, spero che sto seguendo bene il tuo consiglio, sto cercando di essere molto più sciolto, e niente, comunque ora continuo, scusate per l'interruzione, vabbè, come ero, non sto dicendo, il secondo e il terzo lascio mio fratello, ci metto io e tutto, e, non niente in altro, no, e, ora mi rompo le palle, ma non solo per quello che ci metto io, ma anche perché è fastidioso, mi piange per tutto, e non dico che non volevo che nascesse, però, proprio mi sta qua, mi sta qua, e, non so, non so più cosa fare, vabbè però poi crescendo ho imparato a sopportarlo ora io vado in quinta e mi trovo molto bene e sto cercando un po' di fare le cose che non ho potuto fare in questi anni di scuola perché sono l'ultimo con gli amici dico perché magari qui non ci vedrò più con alcuni amici beh so che con Savva, Cristian, Giorgio tipo Carielli, Ale e Sergio ci vedremo, Lorenzo ci vedremo perché abitiamo qui vicino però magari con gli altri no quindi sto provando a fare tante cose in quest'anno e niente ve l'avevo detto che era un po' corto però spero che vi sia piaciuto e avete apprezzato il mio oggetto quello stesso qui qui da Riccardo è tutto e ciao e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti